Coppa Davis, Italia-Canada diretta ore 13, veder l'antivo streaming. Malaga, Spagna, l'Italia di Coppa Davis va a caccia di un'altra impresa a Malaga. Dopo il successo sugli Stati Uniti gli azzurri di Capitan Filippo Volandri, senza gli infortunati Matteo Berrettini e Yannick Sinner, proveranno oggi, sabato 26 novembre, a fare il bis contro il Canada e a conquistare così un posto nell'atto conclusivo delle finasi in corso a Malaga, traguardo già raggiunto dall'Australia. Vittoriosa sulla Croazia nella prima semifinale. Italia, il sogno Davis continua Italia-Canada. Dove vederla ad aprire Italia-Canada, il via dalle ore 13, sarà Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. Poi toccherà Lorenzo Musetti contro Felix Augeraliassime e in caso di parità dopo i primi due match sarà la volta dei doppisti Simone Bolelli e Fabio Fognini contro Vasek Pospisile Shapovalov. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2, in chiaro, su Sky Sport Tennis. Sky Sport 1 in streaming su Rai Play, Sky Go Now e Super Tennis la Coppa Davis Live Risultati e calendario delle Finals Quarti di finale, Australia Paesi Bassi 2 a 0 Croazia Spagna 2 a 0 Italia USA 2 a 1 Germania Canada 1 a 2 semifinali, Australia Croazia 2 a 1 Italia Canada, 26 novembre. Ore 13, 00, finale, Australia Italia Canada, 27 novembre, ore 13, 00. Grazie!